Dami un po' di break down di come ti senti, ovviamente a questo punto della settimana. Ok, come ti senti in questo momento della tua settimana? Vuole che gli racconti più o meno come stai, come stanno andando le cose? Va tutto alla grande, il camp è andato alla grande e giuro non sono mai stato meglio in tutta la mia vita. Non vedo l'ora di sabato. Quali sono cosa pensi di Mark Madsen e come ci si sente ad affrontarlo in Danimarca? Penso che sia davvero un ottimo wrestler e anche un bravo ragazzo, penso, da quello che ho visto. E poi cos'è che Mark Madsen? Come ci si sente ad affrontarlo in Danimarca? Ma non cambia niente, ripeto, l'ho detto anche già prima, lui lì dentro è da solo, pubblico e fuori, quindi non mi cambia niente. Quindi, prima di tutto, cosa posso rispondere a lui? Che non è da solo, non lo aiuta nessuno. La prima cosa è che, anche se Mark è in Danimarca e è la sua casa, sarà solo in casa. Quindi, non vuole usare il pubblico per l'esame. e si tratta di un po' di pressione. E si tratta di pensare che Mark è un ragazzo, è un fattore world-class wrestling fighter, lo conosciamo, abbiamo visto tutti i suoi video, quindi siamo pronti a combattere un fattore alto livello. Cool. Cosa abbiamo fatto questa settimana per concentrarci, per rilassarci? Ho riposato, riposato, riposato e mi sono allenato. Abbiamo fatto una spesa per la ricarica dopo il peso e basta. Questa settimana qua me la prendo per riposare e stare in focus. E niente, alla sera facciamo un piccolo allenamento per tenerci in forma e aspettiamo il nostro momento, cioè sabato. Si tratta della settimana solo per rilassare. Cosa stavamo in casa solo per rilassare e restare. La dieta è stata molto bene, e sono qui in charge di nutricionistica, quindi sono qui 24 ore con lui. E tutto è bene, siamo pronti e concentrano per fare il nostro meglio in la città di oggi. Grazie a tutti.